Sto attrezzando un periodo creativo e quando attraverso i periodi creativi c'è sempre un po' di casino. Ciao a tutti ragazzi mi è tornati sul canale di Coridan, oggi faremo un video un po' particolare perché saremo insieme io e Andrea, poi in questa prima parte del video no, mi ha chiesto se gli potevo fare l'unboxing di questo gioco che stavano aspettando con l'ansia, Descent Viaggi nelle Tenebre, un dungeon crawler, la seconda edizione di questo dungeon crawler molto interessante. Intanto vediamo l'unboxing, vediamo che la contiene la scatola e poi insieme a Andrea andiamo a fare una rapida recensione del gioco. Allora vediamo un po' nel dettaglio e contenuto della scatola. All'interno abbiamo i regolamenti, chiaramente, e poi i manuali delle avventure. Atto 1 e il secondo atto. I vari tile, token, porte. I dadi. Carta, questa è una carta magia, vedo. Poi, vediamo un po'. Ah, queste sono piccolissime. Le carte sono... Poi lo vedo per la prima volta io, eh. Vediamo un po', queste carte mignonne. Queste invece hanno... Non sono due fasche, quindi... Ah, equipaggiamenti. Le schede dei personaggi. Gli eroi. Ah, è il nano. Questo è per mio figlio. Ah, si scappate. Vabbè. Una dischetta a bustante di miniature. Vediamo un po'. È capitato in mano un eroe. Vediamo un'occhietta a queste, che mi è capitato in mano. Questo è il cavo. Sono un po' piccoline, eh. Sarà... Saranno impegnative da dipingere. Questo è spettacolare. Paganissima. Allora. Se non sbaglio, i mostri sono in due colori. Che rappresentano... Dovrebbero rappresentare i mostri normali, incontri, che si fanno. Che sono questi qui, beige. E i rossi, che sono quelli più forti. Il cavo è veramente bello. Cos'è? Una sorta di orientale. Ma questo è bellissimo. Cos'è? Un antico venuto dal mare. Anche, come si si vede, all'interno del tentacolo, una bocca. Qui abbiamo un arciere. Un goblin. Questi già sono di misura... Più normale, in confronto che io dai. Diamo un'occhiata anche ai manuali. Qui abbiamo un regolamento, che andiamo a vedere più nel dettaglio, insieme ad Andrea. Sono... Quante sono? Poco più di 20 pagine. Vediamo poi il primo atto qui. Manuale delle avventure. Ah, boia, c'è anche una discreta introduzione. Bello. Molto bello. Ma poi che figata. No, per esempio le prime pagine sono tutte di... Di storia. Veramente, veramente interessante. E poi ci sono proprio le missioni... Dere e proprie. Le imprese. Ora non mi voglio spogliere a nulla, eh. Ci giocherò con l'app, sicuramente assieme a mio figlio. Bello. Direi che ho come impatto, come colpo d'occhio, miniature, manuale, illustrazioni... E tutto. Come grafica direi che è ottimo. Ora daremo un'occhiata a regole, un pochino più approfondita. Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan. Oggi sono in compagnia del mio socio e collaboratore. Ciao. Oggi vi vogliamo presentare Descent, Viaggi nelle Tenebre. Seconda edizione uscita, quindi a differenza della prima ci sono ovviamente varie cose in più, vari personaggi, vari mostri. Ma la cosa più importante è che questa seconda edizione è guidata da un'app. Un'app che è scaricabile gratuitamente, se non erro, dall'app store. Sì, app store e anche iOS. Direttamente e ovviamente vi fa da Game Master. Perché vi ricordo che Descent è un gioco come nel buon vecchio HeroQuest, dove un gruppo di giocatori fanno la parte degli eroi. Qui abbiamo preparato un tavolo, ora poi vi si fa vedere un po' di regole. E un altro giocatore fa la parte del Game Master. L'app serve laddove si voglia fare tutti i parti del gruppo di avventurieri. Il Game Master lo fa direttamente l'app, ma non solo, dà anche uno spessore un pochino più open world. Mettiamolo così in questo gioco. E quindi la seconda edizione del gioco della Fantasy Flight. Portato in Italia, tradotto e localizzato nella nostra lingua dalla GiochiUniti, che noi ovviamente ancora una volta ringraziamo di cuore per averci offerto una copia per la recensione. Quindi grazie di cuore. Il video è montato diverso questa volta qui, perché è anche il primo che facciamo insieme. Avete già visto la parte iniziale con la segre e tutto quanto dell'unboxing. E ora ovviamente vi spieghiamo un pochino come funzionano le regole. Ricordo ancora una volta che la seconda edizione dovrebbe avere all'attivo tipo un 5-6 espansioni, una cosa del genere. Più un'altra che è uscita recentemente anche per il periodo più o meno del Luca Comics. La prima edizione invece ne aveva altrettante, se non addirittura anche qualcosina di più. E c'è una differenza sostanziale alla fin fine tra la prima e la seconda. Però, secondo me, se siete un gruppo di giocatori che cercate un'esperienza un pochino più vasta, soprattutto cercate anche di giocare tutti insieme, per cui non un giocatore debba fare la parte dei Dungeon Master che muove mostri in giro per i dungeon, forse la seconda è quella che fa per voi. Però la prima non è nemmeno più così tanto facile da trovare, perché la puoi trovare da un collezionista, la puoi trovare da qualcuno che ce l'ha forse in qualche negozio specializzato. Non so nemmeno se si trovino più in giro. Io personalmente nei negozi non le ho mai viste. Comunque, tanto, è una diretta evoluzione della prima e tranquillamente questa la trovate anche, tra l'altro, nel primo link in descrizione sul sito della Giocchi Uniti, che sono le editori italiane e hanno il gioco base che vedete qui davanti, più tutte le espansioni. Ci sono otto personaggi che fanno parte di un archetipo. Ci sono guerrieri, guaritori, esploratori. Ogni archetipo poi si sviluppa in due sottoclassi. Qui abbiamo il nano, che fa parte della sottoclasse del Berserk o del Cavaliere a scelta. Cioè il movimento del personaggio, ovviamente il numero di caselle che può muovere, i punti ferita, che sono le ferite che deve subire prima di svenire, perché non muore, sviene. I punti fatica, la difesa e qui sotto ci sono le caratteristiche per le varie prove di abilità. Prove di abilità che si fanno su dado grigio e dado nero. L'abilità del personaggio, che è un'abilità passiva, diciamo, sempre attiva. E poi c'è il gesto eroico che si fa una volta per avventura, quindi da usare con parsimonia. I punti fatica servono per attivare le abilità speciali, in questo caso il Berserk di base all'Ira. Cioè noi ogni volta che vogliamo applicare, vogliamo attivare un'abilità speciale, dobbiamo consumare un punto fatica. Segnato anche sulla carta. O se no, per muovere di più. Ogni casella in più che decidiamo di muovere è un punto fatica. Una volta finiti i punti fatica, ogni punto in eccesso ci va a togliere uno di vita. I danni che fa un personaggio sono scritti sull'arma che usa. E le armi hanno questo simbolino qui sotto. Cioè le due mani. Questo vuol dire che quando impugna l'ascia non può usare nient'altro. Ci sono armi che hanno una mano sola, quindi volendo si possono usare insieme allo scudo, o armi che invece mangiate per forza con entrambe le mani. Poi ovviamente ci sono classi per tutti, come in un qualsiasi buon gioco fantasy. Io prendo sempre l'esempio di Hero, questo che è quello più che tutti ci ricordiamo, che c'è il guerriero, il mago e anche qui uguale. Alla fine c'è il guerriero, c'è il ladro comunque scassinatore, c'è la parte magica castante e altre classi. Comunque siamo stati sessisti perché c'è anche la controparte femminile. Non lo tirate fuori, si può fare un party misto oppure tutto per dire... No, 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 no. No, noi siamo allo vecchio stile come su Hero, come stai tutti uomini e batta, poi discorsi. Anche l'elfo, anche lui era no. Un'altra cosa che voglio dire comunque della scheda del personaggio, una volta che hanno usato il gesto eroico, si gira la scheda, dietro non è segnato, E così ci si ricorda che quel personaggio lì lo ha usato Ogni personaggio ha due azioni disponibili Che sono le classi, ci può essere in movimento Girare un obiettivo Esplorare dove ci sono i segnali in esplorazione Perché non è che si può esplorare ovunque come a HeroQuest Ci sono dei punti specifici Lanciare incantesimi Rianimare un compagno Cambiare equipaggiamento Quindi insomma, le possibilità sono tante Ne possono fare solo due Anche due volte la stessa Due volte un attacco, due volte un movimento I mostri, idem Anche la stessa azione due volte Danni mostri, ma questa è una cosa dell'applicazione comunque Quando usi due eroi i mostri non possono attaccare due volte Le attivazioni sono Gli eroi si attivano nell'ordine che si preferisce Scelgono i giocatori E poi si attivano i gruppi di mostri Tutti gli zombie, tutti i goblin Nell'applicazione invece è alternato Si attiva un eroe, si attiva un gruppo di mostri Un altro eroe, un altro gruppo di mostri Questo per rendere più difficile la cosa Perché un'intelligenza artificiale comunque non sarà mai all'altezza Di una controparte umana E quindi per rendere più difficile hanno trovato questi scavotaggi Che funziona secondo me Perché ti pestano quando si attiva così Ti pestano tanto Questi due personaggi Uno può attaccare a distanza Perché hai coltelli dal lancio Come funzionano gli attacchi a distanza? Si tirano i dadi necessari I numeri Sono la gittata dell'arma Quindi questo coltello Può arrivare a 4 caselle di distanza Che sono sufficienti per raggiungere Questi sono ovviamente i cuori Le ferite che infligge E il pulmine è l'attacco speciale dell'arma Che può essere Aggiungi uno in gittata Aggiungi uno al danno Ogni arma ha la sua cosa particolare In corpo a corpo invece gli attacchi vanno sempre a segno Non hanno bisogno di Digittata A meno che non venga una X sul blu In questo caso gli attacchi falliscono a prescindere Un eroe tira i suoi attacchi Una volta che ha deciso anche eventuali Specialità dell'arma Il mostro tira il dado di difesa Zero E quindi si subisce tutto il danno Per i mostri servitori hanno la parte superiore Mentre invece i mostri evoluti La parte inferiore Ecco le caratteristiche leggermente diverse Di solito aumentano le ferite Sì, si lamenta Lui poverino Dietro la carta dei mostri Ci sono scritte tutte le abilità speciali E tra l'altro Questa parte qua giù in fondo Ci dà anche un setup Di mostri che devono entrare Se ci sono due player Ne entra uno normale Se ci sono tre player Ne entra un elito Comunque evoluto Se ci sono quattro player Ne entrano invece in campo 1 e 1 Quindi quando vi verrà chiesto Di quanti ne vanno messi in campo Ovviamente guardate sempre Il riferimento Nella parte dietro Della scheda del mostro Qui sono pochi Perché questo è un mostro Particolarmente ignoro Eh, infatti Poi ovviamente ragazzi Ci sono tantissime carte Nel gioco Che sono sia Carte abilità Ovviamente dei personaggi Divise per carte Abilità proprie Poi c'è anche la modalità campagna Perché a seconda Potete affrontare Le avventure del gioco Le missioni In modalità singola Single shot Quella che io alla fine preferisco O anche in modalità campagna Laddove Poi ottenuto Seguiti dall'app Che ora vi faccio vedere Guadagnerete appunto Esperienza Vi comprerete equipaggiamenti Farete quest principali Secondari Quindi andrete avanti Con personaggi Che saranno sempre più forti E anche abilità E anche abilità E poi ci sono ovviamente I vari mazzi Dei personaggi Delle classiche Trovate ad esempio Il berserk Come abbiamo visto prima Il nano Poi ad esempio Il mazzo del ladro E ci sono anche altri mazzi Che potete trovare Nel corso del gioco Tipo il cavaliere È una variante Del berserk Tanto poi li vedete Comunque sono divisi È un archetipo Poi ad esempio C'è sotto il ladro C'è anche il coso Il ramingo Tanto questi sono sempre divisi Per colore Quindi non vi potete sbagliare E ragazzi È sempre al solito Per darvi un'infarinatura Perché fare un tutorial Verrebbe troppo lungo Proprio come Sono legorroico io Ci staccio in cuore Per descriverlo Comunque La cosa che secondo me Ha la marcia in più Rispetto alla prima edizione Che poi Fateci caso In tutte le nuove edizioni Dei giochi Della Fantasy Flight Un po' come hanno fatto anche Nelle case della follia O avventura nella terra di mezzo Avventura nella terra di mezzo Le fanno tutte quante Sempre Seguite da un'app Che l'app vi guida Perché non è soltanto In questo caso Un dungeon master Che vi crea l'avventura Ma magari vi ricorda Anche in un certo momento Il dado da attirare Oppure il dado da attirare Per difendersi O per fare un attacco O anche semplicemente Un test abilità Da fare in un determinato momento Quindi tante volte Ti aiuta anche Senza avere sempre Il manuale a portata di mano Ed è una cosa molto bella Soprattutto per Uno gruppi Che cercano di giocare Tutti insieme Senza doversi dividere Perché poi diventa un gioco Che se il master Zaccanisce verso un giocatore E gli manda tutti i mostri Addosso a lui Mi abitava sempre A me su Hero Questi mi ricorrevano Per darmi gli schiaffi E poi Oh Poco il bastiane Te lo immagini Quando era lui Dungeon master Ero morto O se no Dall'altra parte A qualcuno Che gli piace più Lo sfondo narrativo Perché se no Sarebbe un mero Muovere le pedine Ammazzare Arraffare il tesoro Scappare e vincere Invece con un'app Che ti segue Con la musichetta Magari i suoni giusti Diventa tutto un altro gioco E l'app Questa qui È l'app Che guida appunto La seconda edizione Di Descent E vedete che Fra le varie opzioni Inizialmente Pobbellino Comunque anche la musichetta C'è la fantasy flight Ci sta sempre molto dietro A queste cose C'è la modalità Il tasto ovviamente Nuova partita Per iniziare una partita a zero Carica partita Che è una cosa importante Che le partite Le potete salvare Può succedere a volte Che si fa una certa ora Il giorno dopo C'è da andare a lavorare Una cosa niente E non si può Lasciare un tavolo Ovviamente con tutta la roba sopra Per continuare l'avventura Il giorno dopo Nel menu principale Vediamo che c'è Nuova partita Carica partita Nel caso State facendo una partita O comunque una campagna E l'abbiate salvata In un dato momento Comunque vi conviene Sempre fare Nel caso di una campagna Una foto al tavolo Anche per ricordarvi Un po' come erano messe Le miniature I mostri Gli eroi E quant'altro Poi sotto c'è Collezione La collezione Sono tutte quante Le espansioni del gioco Che avete sbloccato Con nuove mappe Nuovi tile Nuovi eroi Nuovi mostri Nuove carte E quant'altro E alcune si possono Direttamente comprare Acquistare come DLC Senza nemmeno avere La scatola del gioco Sono proprio DLC Narrativi a parte Che per giocare Vi basterà la roba Che già ci avete O comunque ve lo dice Se vi serve un'espansione Ve lo fa presente E potete giocare Tutte sono veramente Tantissime E l'app Della seconda edizione Ha creato praticamente Una specie di open world Laddove tra una missione E l'altra Vi potrete spostare Proprio su una mappa Quasi come se fosse In un videogioco In Bardos Gate E vi manderà a volte In una locanda In una taverna O vi darà anche Delle missioni Anche gli incontri Anche gli incontri O cose del genere In questo caso qui Fate nuova partita Le modalità si dividono In tutorial Fatelo Consigliatissimo Almeno vi insegna Qui proprio vi insegna Vi fa vedere come giocare Passo per passo Quindi un'avventura guidata Campagna Nel caso vogliate fare Una vera e propria campagna Quindi missioni collegate Da inizio a una fine Che poi procederà Nella storia Delle varie Espansioni che sono uscite E poi la modalità Invece E un'avventura A parte Che tanto lo vedete Se sono bloccate Da un lucchetto Sono cose A parte Che dovete comprare Comunque voi La campagna durerà Un lucchio Il tutorial è brino Perché c'è un tutorial Dentro il tutorial Cioè Il tutorial è una campagna Semplice Ma una piccola avventura Iniziale Che ti chiede La vuoi fare? Una premessa Alla campagna Che ti insegna Potrà giocare preciso Dovete crearvi Prendendo uno slot libero Noi già due L'abbiamo occupati Per la nostra avventura Che poi ovviamente Vi porteremo anche Gameplay del gioco Dovrete scegliere A seconda di quanti siete Due, tre, quattro giocatori Vi scegliete gli eroi Che volete Le andate direttamente A selezionare Creando una squadra Le prendo un pochino Così a caso Fatta la vostra squadra Andate avanti Procedete Vi fa scegliere La classe L'archetico E appunto Vi fa scegliere la classe Come vedete sono due Selezionate una classe Per ciascuno Ora le faccio un pochino a caso Sto guardando dall'alto Date continua Il nome del gruppo Che il nome del gruppo Verrà richiamato Spesso dall'applicazione E poi fate Inizia Così a primo acchito Può essere un po' spaventoso Ma comunque Anche guardando Alte recensioni O cercando notizie sul titolo C'è scritto Non è Un entry level Cioè È un gioco fatto Per gente che sa già giocare Non è che può iniziare A giocare da questo Quindi Secondo me Il suo essere Un po' compresso È anche giustificato A questo punto Secondo me Allora Io per quello che ho visto Parlandone tranquillamente Come sempre In gruppi Sui social O anche Tipo facebook E cose del genere O soprattutto Anche vecchi forum Perché sono quelli che piacciono più a me Proprio stile Primi del 2000 Cose del genere Eh È proprio anziani Tanto per andare a finire Sempre lì Quello che ho visto Su Descent Che su Descent In Italia Come sono andato a vedere all'estero C'è una community disumana Veramente di gente Che crea avventure Creano gruppi di gioco Magari per trovarsi Nelle varie città Per fare una partita Ricorda un po' Community di Iro Eh Sì sì Infatti lo volevo dire Ricorda molto quella di Iro E c'è una grandissima community dietro Che ci gira intorno Ad esempio In tanti altri giochi Tipo anche Dungeon Saga Che è un altro bellissimo Dungeon Crawler Al pari di questo Io ho cercato Su Nei forum Io ho cercato anche un po' Su social Ce n'è pochissimi C'è un gruppo solo Che fa tipo 200 iscritti 300 Una serie di genere Su Facebook Però non c'è tutta questa voglia Di creare Di espandere Anche il contenuto di giochi Anche con Home Rules Per quanto In Descent Un ce n'è tanto bisogno Perché Già c'è tanta roba Ma tanta roba Anche da comprare A parte del gioco di base Quindi ragazzi Ce n'è tanti Se puoi Forse anche per la mole Di contenuti Che ti dà Di miniature Perché ogni scatola Che comprate Non è che dentro C'è un drago E due nuovi tile Oppure un eroe Un nemico Un boss particolare E qualche nuova carta Ogni volta che comprate Una confezione di queste Di espansioni Minimo minimo Ci sono 20 pedine dentro Nuove Fra mostre Eroi E cose varie Più vabbè Ovviamente Novi tile di gioco Perché non si può giocare Sempre nel solito qui E tile aperti Tile chiusi Dungeon forest E cose varie Comunque permettono Una discreta varietà Io ad esempio Ho visto vendere Tanti altri dungeon crawler Senza fare nomi Niente Per comprare Descent Perché Descent Secondo me È più Non è per tutti Assolutamente Ha ragione lui Non è un gioco per tutti Anche un po' per la complessità Di partenza Che ti può spiazzare Non dimentichiamoci Che è della fantasy flight La fantasy flight Sono quelli di assalto imperiale Che per giocare Ad assalto imperiale Prima dell'app Ci volevano laurea Per davvero Non è uno scherzo ragazzi È pesante È bellissimo È un capolavoro No 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 Io rileggevo le stesse ose Ho fatto recensioni Di tutti i giochi del mondo La stessa pagina Quattro volte E magari la devo rileggere Una quinta L'hanno voluto complicare troppo Però ora con l'app Anche l'asmodi Ha fatto un lavoro assurdo Questo è un gioco Questo è un gioco Secondo me Per i vecchi gruppi di D&D Per quella gente Che non vuole soltanto Fare una partita Al gioco da tavolo Ma ci vuole collegare Anche un contenuto GDR E continuativo Dei ragazzi Che ho conosciuto recentemente Che hanno Descent Più tutte le espansioni Uscite finora Mi hanno detto Che loro Stanno giocando Una volta a settimana E sono al quarto mese Che portano avanti La campagna Cioè una volta a settimana Per quattro mesi Dungeon and Dragons Cioè una cosa Non facile Capito Da portare avanti Il fatto che puoi scegliere Una classe All'archetipo Del tuo personaggio È una piccola Spruzzata di GDR In più Infatti Poi col fatto che Con il fatto che Vanno a progredire Col fatto che Te le può portare avanti Ti compie l'abilità Con l'app Visite i vari posti Quindi magari Ti sposti in un posto Rispetto ad un altro E magari l'app stessa È bella in che ti dice Ora per giocare Questa parte O questo tipo di avventure Devi avere questa espansione Ma anche senza l'app Ci sono le carte incontro Sì infatti Cioè Ora l'app Ti permette di giocare Tutti insieme come eroi Però è proprio studiato Per questo Sì Secondo me è meglio di sé Lo dai in una campagna Secondo me è uguale Secondo me è lo stesso Ci vuole tempo Tempo e costanza Perché Insomma Per portare avanti Una campagna E finire la scatola di base Trovandosi una volta Due a settimana Secondo me Già un mese ti ci vuole Ma Forse sono stato anche Meno male Che porta avanti Tanto tempo E poi Secondo me è anche Altamente rigiocabile Perché può prendere Anche altre varie strade Per quanto poi La storia è quella lì Però ci sono varie Diramazioni Che ti portano poi Un finale Che è quello lì Insomma È quello deciso Dalla storia del gioco Se le devo dare un voto A un gioco del genere A Descent Assolutamente Un 8 su 10 È un gioco Che vale oro Però non è che Non è il fatto De essere frainteso Che non è un gioco Per tutti Magari lo può anche essere Però un gruppo È un gioco Per un gruppo di persone Sicuramente più navigate Più smalizziate Sì più smalizziate Che già sono un po' Magari nelle meccaniche Di questi giochi così E soprattutto Il me Lo potete giocare Anche a missione singola Il mio moglie L'abbiamo fatta a missione singola Il più delle volte Però il meglio di sé Lo dà nella modalità campagna Veramente Rispetto a vari giochi Come ad esempio Dungeon Saga L'ho visto tranquillamente Che dopo gioca anche Missione per missione Come un hero quest Tranque Oppure Uno Sword and Sorcery No Uno Sword and Sorcery Col fatto che c'è legato Anche il libro delle missioni Che è una specie di libro game A seconda delle scelte che fai Ti rimandano un altro paragrafo Sword and Sorcery No Non lo potete giocare a missione singola Ma dovete fare tutta la campagna E questo uguale Questo La potenzialità la dà Su la lunga giocata Appunto sulla campagna Quindi un 8 su 10 Meritatissimo Vi ricordo che trovate Il primo link in descrizione Sul sito della GiochiUniti Per acquistarlo Tutti quanti I link dei nostri social Secondo me È un gioco che se siete Veramente fanatici Di D&D Ma D&D vecchio stile Fermiamoci all'Advanced Perché Io ho comprato il manuale Della terza edizione L'ho comprato e l'ho rivenduto Non si è mai giocata Noi ci siamo fermati All'Advanced Perché è bello così Quando un gioco è bello Ancora una volta Non c'è bisogno Di metterci cose in più Cioè Va già bene così Non c'è bisogno Di metterci talenti Cosi Lì entra il marketing Lì entra il marketing Ovviamente Però questo È un gioco Che per quanto è Pieno zeppo di contenuti Va sicuro Vi rimanda indietro Ai giochi Veli che ci rubano tempo E poi anche vi ragazzi È apprendere le meccaniche Perché sì è vero Ci può avere tanti concetti Tante cose Ma una volta che hai fatto Un giro Due giri d'avventura Ce l'hai La padroneggiata Appunto e basta Quindi il fatto è soltanto Di apprendere il funzionamento Fateci sapere cosa ne pensate Con un commento qui sotto E spero che vi sia piaciuto Ciao ragazzi Alla prossima Ciao